E ciao a tutti amici sono Sabriagold e benvenuti in questo nuovo episodio di Rimworld Allora prima di iniziare vorrei farvi vedere, per l'ennesima volta aggiungerei, la lista di mod che sto utilizzando adesso Vi do la possibilità di stoppare il video e guardare un po' le mod Ok, iniziamo Allora ragazzotti vi devo dire che sono un po' preoccupato per la serie di Rimworld Perché credo non riuscirò a terminarla nel limite che c'eravamo prefissati di 100 episodi E questo è un problema purtroppo dato dalla mancanza di componenti avanzati Che ahimè ci servono per costruire il banco, che ci servono per costruire altri componenti avanzati Quindi diciamo che è un po' un circolo vizioso C'è anche da dire che nel momento in cui otterremo questi componenti avanzati saremo a posto Allora, per favore evitiamo che il mondo bruci Sereno e mi cade un fulmine a caso E va bene Ok, allora Vedete abbiamo un componente avanzato Ovviamente i componenti avanzati ce ne servono due per costruire questo fabrication bench E vabbè, e vabbè Comunque ditemi cosa ne pensate della serie E se vi sta piacendo ormai siamo verso la fine direi Perché davvero C'è ben poco che possiamo fare in più se non erro Uh, guardate qua Stiamo Stiamo proprio asciugando tutto E anzi Se non erro Yes, possiamo Possiamo finalmente Chiudere anche qua Benissimo Fuoco da qualche altra parte No, lì si è spento Perfetto Oh, che bello quando le cose funzionano Tuttavia Abbiamo questo problema con i componenti Quindi Come al solito Il demo Vai a chiamare questi tizi Ok Ehm Carvana commerciale Eh Accanto ai prodotti esotici Vai Così almeno vendiamo tutti sti organi anche Che vi ricordo Dalla scorsa volta Abbiamo finalmente ripreso a produrre Ice E il resto Sto andando tutto bene Diciamo così L'energia non è più un grande problema Ebbene non sia ancora totalmente convinto Del Degli aggiornamenti Però Diciamo che Produciamo abbastanza Per far sì che Non ci finisca l'energia Oh i nostri polli E il nostro pollaio Quanto produce velocemente Voglio arrivare al momento in cui Qua non ci stanno proprio i pipolli Stiamo già Producendo di nuovo Fino ad oltranza Perché ne abbiamo ben poco Principalmente per quello Help wanted No non mi interessa Sempre la stessa cosa Del raccolto Se avete avuto un buon raccolto Sono quasi Ok quindi adesso Sostanzialmente Dobbiamo aspettare che Qualcosa ci dia la possibilità Di Di costruire Questo fabrication bench Perché ora come ora Siamo a corto Di Dei componenti che ci servono E Ben poco che possiamo farci Cosa la passa Handel Ah bravo Indebolito per Ah l'impianto rasseneratore Rasse nera Rasserenatore Ma non riesco a parlare Harvest Oh c'è un matrimonio Handel e wasp Handel e wasp Oh mio dio Uno dei coloni Più Anziani Nella colonia Si sta per sposare Dov'è la sposa No 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 Oh che teneri Allora Trebo però Sacco di merda Perché vai in fondo Anche te wombat Eh Allora Riempiamo la prima fila Che schifo Che c'è per terra Dai nessuno che pulisce Dov'è woodpecker Woodpecker Cut Pulisci Vabbè Redunt Non cambiate Cambiate le Come si chiamano È cambiata La 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 relazione Con quella Fazione Un custode Del fuoco Provenente Del pacto Neva Aspettate un attimo Perché le fazioni Pacto Neva Più 21 Neutrale Io Sinceramente Voglio far incazzare qualcuno Perché sta diventando Troppo bella Sta storia qua Del Della fazione Quindi Ho troppi alleati Io voglio più ride Voglio più ride Perfetto Azione Ostire Come neutrale Io volevo Volevo Addirare qualcuno Mi sono riuscito Cato La woodpecker Ora Ora vai a dormire Fammi vedere Vi siete presi A pugni E sostanzialmente Allora Contusione Al torso Alla gamba Alla gamba destra E al Oh Una frattura Al femore Destra Al femore Destra Sto morendo Non ho capito Sinceramente Cos'è che sia Succe Ah Meno 48 Ah Era Meno 48 Perché Siamo partiti Da 48 Quindi Quando arrivano Ah no Perché noi abbiamo chiamato loro Sì sì Abbiamo chiamato loro Potremmo chiamare I Pact of Neba Di venire qua Così Li facciamo incazzare Per bene Ok Stanno arrivando Questi qua Non posso mandarvi Dei soldi Niente Fa niente Fa niente Ok Stanno arrivando I commercianti Che però sono Che sono Ah Eccoli qua Li vedevo Quindi Guardia Tildema Eh sì Per forza Tildema Tildema Vai Oh sì Oh sì Perfetto Questo lo compro Eh Yes Advanced components Yes Anzi Sapete cosa Yes Fatta Tella follia Certo 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 Cosa vi aspettate Ovvio Vi ricompro Vi ricompro tutti Questa qua La smantellate Perché ci serve L'uranio Mentre Mentre Brava Tildema Brava Ora Mi serve Che qualcuno Cosa vuol dire Necessità Di advanced components Qualcuno Qualcuno Li starà Prendendo Vero Brava Brava Wombat Un attimo Wombat Quanto hai Dici Dai Non puoi fallire Adesso fallisce Ma lo sento Adesso fallisce Bravissima Ce l'hai fatta Ok Allora Lancia Gran Lancia cariche Ah ok L'armatura integrale Ah vedo che L'armatura integrale L'han tolta da qua Casco Advanced components Assolutamente Madonna Quanto richiede Però mi serve qualcuno Che ci lavori Sempre comunque Do until you have Facciamo 20 Massimo Poi Wow Bravo Tacker Noi attacchiamo Odiamo Tutti i pirati E le tribù Noi Quindi Dicevamo Questa è Doont Pact of Neva Ok Questi qua sono Pirati Quindi ci interessa Ben poco E questi Anche Sono pirati Sniper's village Uh Basculo The black bear busto Buo busto Nice Ok Non voglio addentrarmi In spedizioni Di alcun tipo Però sarebbe bello Farlo Oddio mio Hanno schiuso le uova Si vede Sta mangiando Fino come se non ci fossero domani Guardate qua Oh mio dio Siamo pieni Di animali Nel pollaio Solo nel pollaio Siamo stra pieni Di animali Dobbiamo abbastanza cucciette Per tutti Lo spero 76 76 volatili Mannaggia Direi che Vi metto qua Contanto di Poltrona Poltrona Ed è arrivato Il mercante militare Che avevamo Chiamato L'hanno chiamato L'hanno chiamato Mercante militare No Assolutamente no E quindi Eh beh Meglio Meglio per noi Però Aspetta un attimo Perché qua sono Di Principal La 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 Questi invece sono Di Ah anche loro Ah ok Bene Qua intanto Incendi A caso Ok Una sta lasciando La colonia Ok Benissimo Così vi vendo un po' Di sto schifo Che mi ritrovo Gli archi Pilum Vostra sorella Allora Archi Quindi Vi compro io qualcosa A caso Farmaci avanzati Bene Ora Eh Cure scratch Ah Capito Che succede? Il fuoco dove? Acqua Niente Endel Of course Che tu ti puoi Prendere queste cose qua Ma senza problema Alcuno Dai 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 Vort tu dovrai Lavorare qua E farlo E farlo velocemente E zitto Ok Vort Ora devi costruire A skill to low Alice Non puoi Wasp Perfetto Ah Endel Ti devono curare Andiamo subito a vedere Due Due Mannaggia Costate Perfetto Abbiamo rimosso il graffio Praticamente hanno rimosso la La necessità di produrre del tessuto Similpelle tipo Con la possibilità di utilizzare i farmaci avanzati Not bad Not bad devo dire Beh dov'è fieno Perché Insomma Ci servirà parecchio fieno in realtà E questo qua Lo cambiamo a Dov'è 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 Pianta di cotone Cotone Pianta di cotone Perché sennò tra poco vedremo Animali affamati E quello non è per niente buono Trasportate tutto Mi raccomando Oh bene Guardate come vanno tutti adesso a mangiare Se lo finiscono un colpo solo Guardate Quanto cibo consumano Dovrei lanciare una molotov lì Dovrei lanciare una molotov Benissimo Ok sapete cosa io direi che posso terminare qua questo episodio Perché Sarà un episodio un po' più corto in realtà Per motivi Che verranno spiegati poi più avanti Quindi Allora io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace C'è un commento dicendomi Cosa ne pensate della serie Perché A sto punto Siamo verso la fine E anzi Con questa svolta qua Forse siamo proprio alla fine fine Quindi Chi lo sa Magari nelle prossime puntate Riusciremo a mettere sulla costruzione Della nostra astronave Per lasciare il pianeta Quindi Io vi ringrazio ancora per la visione Sono Gold E noi ci vediamo al prossimo video Bye bye Ciao